Francesca Fagnani a che timida Belva. Nella seconda serata di Sanremo, alla co-conduzione è il turno di Francesca Fagnani. La giornalista Belva però ha perso il suo graffio foto-video. Tutto su Sanremo 2023 speciale. Scollo a sorpresa. La Fagnani scende le scale e stupisce con un elegante vestito di Armani dalla scollatura profondissima, in sala stampa urla di gradimento. Si mostra subito a suo agio, anche se spiega che per placare l'ansia ha seguito il metodo Fiorello, mezzo bicchiere di frizzantino. Sul web scattano subito i paragoni, estetici, un Chiara Ferragni che l'ha preceduta, meglio la classe della Belva che le tettine disegnate della Ferragni è, per ora, la sentenza. Sanremo 2023, le pagelle della seconda serata. Promossi e bocciati guarda. Con il freno a mano. In effetti, fino alle 22, 42 della Fagnani c'è poca traccia. Il secondo cambio è più semplice, ma sempre elegante, pantaloni neri e una sorta di gilet incrociato che lascia scoperte spalle e braccia, palistrate. Finalmente la giornalista chiacchiera con Amadeuse e Gianni Morandi, e rivela che la sua canzone sanremese preferita è i vattene amore. E a suo agio, certo. Ma finora la Belva è deludente, nessuna zampata, procede con il freno a mano tirato. Tanto rumore per nulla. Il monologo, parlano i minori in carcere. Per il monologo Francesca Fagnani sceglie un tema delicato. Drammatico, l'inferno delle carceri italiane. E per farlo, dà voce ai ragazzi del carcere minorile di Nisida a Napoli. Ecco le loro parole, recitate dalla giornalista, rubare non è il mestiere mio. Mi servivano i soldi per fare il brillante, dottore. Sono cresciuto nervoso. Arrabbiato, chi fa le cose per rabbia non ha paura, vorrei che la gente sappia che non siamo animali. Non siamo killer per sempre. Avete sogni? Andare a uomini e donne, lì c'è a chi appanza. Lo stato più sexy dell'illegalita. La giornalista spiega che questi ragazzi la scuola l'hanno abbandonata. Ma nessuno li ha cercati, né la preside, né gli assistenti sociali. Gli adulti che ho intervistato in carcere mi hanno spesso detto che se avessero potuto cambiare qualcosa nella loro vita, sarebbero andarti a scuola. La scuola dovrebbe combattere la dispersione scolastica. Dare pari opportunità, lo stato dovrebbe essere più attraente dell'illegalità. Anche perché se questi ragazzi non vengono recuperati subito, non c'è più speranza, il carcere italiano. Quello degli adulti, è fatto per reprimere, non per rieducare, riflette la giornalista. E senza nominarlo attacca il magistrato Nicola Gratteri. A luna di notte F alla Belva. All'alba dell'1,16 Francesca Fagnani ritrova il suo sgabello e fa l'intervista da Belva a Gianni Morandi. E scopriamo che una sera durante un concerto estivo il povero Gianni, in preda a dolori intestinali, vestito di bianco, scappa dal palco e mentre scappa dalla rete, il patatrack. E si è fatto prestare i pantaloni dal batterista che rimase in mutande. Poi tocca ad Amadeu Umberto Rita Sebastiani, detto Amadeus. Come ci si sente ad essere il marito di quello che è considerata la Iocono italiana? Risposta, un uomo estremamente felice. Compitimo svolto. Si visul meu nu are limite, no, zboara peste tot, gandește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile, să fac totul ca la carte să rub rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel, trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie vând, nici un curcubeu, da' ce că toate astea-s doar în capul meu. Si-mi zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai intarziat deja. Arunca spate visele într-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva.